Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme la mia boutique di agosto e settembre, quindi due mesi insieme. Andiamo a vedere che cosa ci propone in questi due mesi. Abbiamo al numero 01 questa camicia che va dalla 40 alla 46 dalla linea aderente, collo con punte accentuate, alto solino chiuso nel centro davanti con due asole i relativi bottoni, sprone davanti e allacciatura con cannoncino centrale, pens cucite davanti e dietro, due taschini applicati al punto seno, manica con fessino, alto polso chiuso, con asole e bottoni da risvoltare a piacere. La difficoltà di questa camicia è a 3, avrete bisogno di 1,50 o 1,60 a seconda delle vostre taglie di tela fluida di viscosa a quadritini. I tessuti alternativi che potete utilizzare sono il crepe de chine, cadì, saten e crepella. Se volete lo potete realizzare anche in un tessuto leggero di jeans a mio parere. Mi piacerebbe realizzarla insieme a voi, però la vedo un pochettino difficile per voi che mi state seguendo da poco tempo, diciamo, ancora. Devo ancora insegnarvi cose molto più semplici rispetto a questa camicia, quindi però mettiamola in calendario. Pantaloni numero 02, taglia 40-46, sono a vita alta, intero nel fianco e con taglio in sbieco. Alta cintura chiusa con lampo nel centro dietro. La linea del fondo è accentuata dal taglio dello stesso. Applicazione floreale sul lato sinistro della cintura, un capo adatto alle figure slanciate. Adatto anche a chi ha un fisico a clessidra perché è valorizzato il punto vita molto largo per quanto riguarda i pantaloni, quindi slancia tantissimo la figura di questo tipo di fisicità. La difficoltà è a due. I tessuti alternativi sono la tela, il piquet, panama, popelin e gabarden, tutti però elasticizzati. L'abito 03, taglia 42-48, è un abito per esperte, realizzato in denim con tagli strutturati e a simmetria nel fondo. Più corto del dietro e sceso nel davanti, con la listina e lacciatura centrale nel centro davanti. Chiusa con bottoni metallici a pressione, tasche inserite nel taglio del davanti e maniche che terminano con motivo stondato. È il capo must have di questa stagione. La difficoltà è a 4 punti su 5. I tessuti alternativi sono gabarden, tela, piquet, panama, rasatello di cotone, cinz e popelin. Questo capo starà benissimo alla fisicità a rettangolo perché cade dritto e quindi slancia la figura. Abito numero 04, taglia 38-44, sciemisiede alla linea aderente, tutto tagliato in sbieco e realizzato in tela di cotone vichy. Cannoncino rimesso al centro davanti in dritto filo, chiuso con bottoni a pressione e corno con solino. Sprone dietro e pens cucite sia nel corpino davanti e sia nel dietro. Taschini con soffietto centrale e patta e letta, applicati al punto seno e tagliati in dritto filo. Gonna arricciata, maniche con polso e fessino chiuso sotto il gomito. Adatto a chi ha un fisico a clessidra perché essendo tagliato in vita la sottolinea. La difficoltà è a 4 su 5, tela di cotone a quadrettini e di essuti alternativi sono lo scozzese, il principe di galles, check, spigato e gessato oppure picchè leggero denim, panama, mussola di cotone, catì e crepella. Pantanoli numero 05, taglia 42-48, harem dalla linea morbida che è un cavallo sceso, realizzato in tela fluida rosso granata, elastico inserito nella cintura della vita e pannello asimmetrico con pieghe sciolte nel davanti destro. Da abbinare in modo sapiente i tacchi per la sera o i sandoli piatti per un look più rilassato di giorno. La difficoltà è 2 su 5, tela fluida di viscosa tinta unita, i tessuti alternativi sono crepe de shin, saten, crepella e cadì. Top numero 06, taglia 42-48, dalla linea bustier con collo alla coreana e portura centrale nel davanti, chiusa da gancetti metallici, spalle all'americana che lasciano la schiena totalmente nuda. Un sofisticato ricamo nel davanti, sinistro in stile cinese. Il rasatello in misto cotone, elasticizzato in tinta unita. I tessuti alternativi che potrete utilizzare sono il piquet, il battista, il panama, jeans, popelin, denim, shantung e taffetà. Tutti però elasticizzati. Top 06, taglia 42-48, dalla linea bustier con collo alla coreana. difficoltà a 3, adattissimo a chi ha le spalle molto larghe perché ne esalta la loro bellezza. Abito 07, taglia 40-46, realizzato in raso di seta e fantasia di foglie e fiori, con inserto scollo a V nel davanti, in unito e ampie maniche a campana, con bordo tinta unito rimesso al fondo. Senza apertura si indossa dalla nuca, il perfetto stile geisha orientale. E di raso di seta e di raso di misto cotone tinta unita, a contrasto. I tessuti alternativi che possono essere utilizzati sono le crepe de sheen della fluida e crepella, abbinando la fantasia alla tinta unita. Il modello vi starà benissimo se avete una fisicità a triangolo. Abito numero 08, abito a kimono, taglia 38-44, dalla linea dritta senza sormonto centrale e bordo applicato davanti allo scollo dietro con coda di po' inserita, che prosegue anche nel taglio centrale della manica, che termina ampia sotto al gomito. Si chiude con una fusciacca da nodare in vita. Adattissimo sia a chi ha un fisico acclessivo, perché esalta la vita, e sia a chi ha un fisico a mela, perché tutti e due mettono in evidenza la vita. Difficoltà è a 2 su 5. I tessuti alternativi alla tela increspata sono il raso, crepe de sheen e leggera frisottina. Pantalone 09, taglia 38-44, tipo pantacollant, particolarmente aderenti, realizzati in maglina di elastica micro-groffarata. Hanno la vita assalita e un bordo di rifinitura all'interno, lampo nel fianco sinistro e alto bordo di passamaneria con frangia al fondo gamba, che termina leggermente a svasare. La difficoltà è 2 su 5 stelline e maglina bielastica micro-groffarata. I tessuti alternativi sono il jersey garzato o ciniglia bielastici. Numero 10, body taglia 38-44, monospalla, tutto doppiato e realizzato in maglina elasticizzata, con doppio volant, sovrapposto e guarnito al fondo con una particolare fittuccia, con applicazioni di conchiglie e perline color bronzo, dosato con pantaloni a vita alta o meglio ancora altissima. La difficoltà è a 3 su 5. I tessuti alternativi sono il jersey, il vellutino di ciniglia e la licra, tutti elasticizzati. Il numero 11 è la camicia taglia 40-46 in tela fluida micro-groffarata a fantasia animalier. Collo a listino che si chiude al centro dietro con nasole, bottoni e apertura a goccia centrale, particolare apertura a V allo scollo davanti, manica lunga, dritta e liscia al fondo. La difficoltà è a 2 su 5. I tessuti alternativi che potete utilizzare sono trep de shin, saten e crepella, tutti elasticizzati. Lo scollo a V esalterà la vostra figura soprattutto se siete appartenenti ad un fisico a clessidra. numero 12 pantaloni cargo taglia 40-46 in tela di cotone a stampa mimetica operata con allacciatura a uomo, apertura centrale davanti con patta interna che si allaccia con asole e bottoni, tasche oblique con fianchino nel davanti, tasche applicate con piega a soffietto laterale ai fianchi e orizzontali a un profilo del dietro, entrambe chiuse con doppia pattelletta e allacciatura nascosta. Top applicate esternamente nell'inforcatura dietro e sulle ginocchia davanti, cintura da inserire nei passanti e annodare a piacere. Questi pantaloni hanno 5 di difficoltà. I tessuti alternativi sono diagonale, gabarden, panama, piquet, rasatello di cotone, fustagno e velluto. numero 13 gilet taglia 40-46 in ecopelle con traforo laser a forma di cuore. Senza chiusura, aggiunge volume e può definire il look finale di un outfit. La difficoltà è a 1. I tessuti alternativi sono ecopelle imitazione nappa, ecopelle imitazione camoscio o rettile oppure tessuto tecnico tutti ovviamente elasticizzati. Il 14 è un abito a taglia unica, si può realizzare in brevissimo tempo perché si può confezionare con due foulard già rifiniti sui quattro lati. Basta infatti aggiungere due pence laterali al seno, due impunture elastiche sotto il seno e le cuciture al centro del davanti e del dietro. Come tocco finale un fiocco di raso da applicare al centro delle coppe. Può essere usato anche come prendisole. La difficoltà è a 2. L'occorrente sono due foulard già rifiniti di voile increspato a fantasia maculata con cornici a fiori. I tessuti alternativi sono crepe georgette, crepe de chine e saten. La numero 15 è il top crop taglia 38 44 il monomanica dalla linea aderente. 16 gonna taglia 38 44 a vita ascesa con leggera svasatura ai fianchi realizzate in saglia elasticizzata. Le tasche sono realizzate in raso elasticizzato a contrasto e sono applicate nel davanti e nel dietro destro con lampo. Applicazioni anche al fondo della gonna e lateralmente nel davanti. Quella della parte destra termina inserita sotto la tasca del dietro formando un motivo a passante. Apertura con lampo nel fianco sinistro. La gonna a difficoltà 3 su 5. I tessuti alternativi sono tela denim, gabarden, popelin, piqué, panama e diagonale. Tutti elasticizzati. 17 abito taglia 42 48 sbracciato e trasparente. Pensa al seno nella parte davanti e punte che ricadono su entrambi i fianchi al fondo. Se realizzato in georgette come quello in foto si consiglia di indossarlo con la sottoveste per evitare la trasparenza. Si indossa dalla nuca perché è privo di aperture. Adatto a chi ha un fisico a rettangolo. La difficoltà è a 1. I tessuti alternativi sono uguali, chiffon, pizzo e tulle oppure senza trasparenze come il crepe georgette, crepe de shin, saten e tela fluida. 18 il camicione taglia 42 48 dalla linea ampia realizzato in pesante tela di cotone. Allacciatura centrale davanti chiusa da bottoni a pressione e collo consolino. Tasse oblique e ha un profilo nel davanti e spacchi laterali ai fianchi. Manica lunga con linguetta interna per accorciarla. Fondo dietro arrotondato e più lungo del davanti con sfrangiatura. La parte superiore di entrambi davanti è guarnita con borchie termoadesive. La difficoltà è a 3. I tessuti alternativi sono gabarden, denim, panama, piquet, shantum e taffetà. Abbiamo come sempre la guida all'arte del cucito, il capitolo 10 dove ci parla delle fodere, quindi un inserto da staccare e da conservare. Qui abbiamo la moda campestre con questo bellissimo abito numero 19 taglia 42-48. Rimane sbracciato con corpino tagliato in vita e doppio sprone a contrasto sul davanti. La gonna è montata con pieghe sciolte nel davanti e arricciata nel dietro. Apertura a centrare con lampo nel dietro. La cintura è realizzata in elastico lavorato e guarnita con finti diamanti e ritagli di tessuto. Questo abito è ideale per la donna a mela perché è tagliato sotto il seno e cade morbido fino al ginocchio, così da mascherare la pancia e mettere in evidenza il décolleté, ma anche le gambe. La difficoltà è a 2. I tessuti alternativi sono piquet, panama, tela e cinz con stampa a pannelli. Anche rasatello, cadì, velluto e raso. Poi abbiamo 21, la canotta taglia 40-46, super cool. In popelin elasticizzato tutto foderato e superaderente con pieghe sovrapposte allo scollo davanti e pens cucite allo scollo e scalfo del dietro. Apertura a lampo nel fianco sinistro. Questa maglietta va benissima a chi ha un fisico a clissidra perché rimane stretta in vita e mette in risalto appunto il punto vita, grazie alle pens che vediamo sia sul davanti che nella parte di dietro. La difficoltà è a 2. Tessuti alternativi battista, piquet, panama, shantung e rasatello di cotoni, tutti elasticizzati. 22 giacca taglia 40-46, antipioggia, in tessuto impermeabile principe di Galles. Dalla linea morbida, sprone nel dietro e fianchini davanti e dietro. Ampio collo con revers e allacciatura centrale davanti a tre bottoni. Tasche applicate con risvolto a finta patelletta. Manica in due pezzi, liscia al fondo. Cintura da nodare a piacere ed è proprio questo che rende questo capo adattissimo a chi ha un fisico a clissidra perché mette in evidenza appunto il punto vita. La difficoltà è a tre punti. Tessuti alternativi sono leggeri cirè in ecopelle utilizzando gli opportuni accorgimenti oppure nei consueti tessuti non impermeabili come il piquet, il popelin, panama, rasatello di misto cotone, gabarden, shandung e stafta. Camicia numero 24 taglia 40-46 in popelin elasticizzato con cannoncino centrale davanti che termina sopra la vita. Chiuso con asole e bottoni, piccolo collo con solino, sprone davanti e dietro. Due volonne arricciati con altezze differenti. Guarniscono i lati del cannoncino come per il colmo manica e il fondo del polso. La manica è corta con piccole nervature al fondo centrali. Devo dire che veramente deliziosa e credo proprio che me la farò. Ditemi se vi piace. La difficoltà è a tre su cinque. I tessuti alternativi sono il battista, ramier, piquet, mussola di cotone, shantung e tafta oppure nelle trasparenze del tulle organza, pizzo e garza tutti elasticizzati. Cintura numero 25 taglia 40-46 chiusa con lampo nel centro dietro. La parte centrale è realizzata con un bordo elastico mentre quella laterale dietro, il davanti con i relativi fianchini e i lacci sono realizzati in tessuto principe di Galles. Si indossa appoggiata ai fianchi sotto il punto vita e i lacci si anodano a piacere. Anche questa è ideale se hai una corporatura a clessidra. Abito numero 26 taglia 38-44 dalla linea bustier aderente realizzato in raso piedi pull elasticizzato. Coppe imbuttite inserite nelle coppe del seno con farretto sottostante. Profondo motivo a incroci nel dietro centrale e guarnizione di pizzo elasticizzato ai lati. Nella parte superiore delle coppe al fondo dell'abito e nelle aperture degli spacchi davanti con fiocchetto al centro. Spalline regolabili e cerniera lampo nel fianco sinistro. Questo abito è adattissimo per chi ha una figura a clessidra perché ne esalta in maniera eccellente le curve. La difficoltà è a 4 su 5. Tessuti alternativi sono crepe de scina, tela fluida, crepella, tessuto crepe. Tutti elasticizzati. Numero 28 giacca taglia 46-52 in Panama a fantasia di onde a contrasto. Collo sciallato e punte rever arrotondate. Allacciatura centrale davanti chiusa da asole e bottoni con dente finale e stondatura al fondo. Pensa al seno e fianchini davanti e dietro. La giacca ha 2 di difficoltà per 5. Tessuti alternativi piquet, ramier, popelin, rasatelo di cotone, gabarden, shantuk e taffeta. 29 jeans taglia 46-52. 5 tasti realizzato in leggero denim elasticizzato della V. Si allaccia al centro davanti con lampo e patta. La cintura è in forma con passanti e si chiude sul davanti con asole e bottone. Nel dietro baschina in forma e tasche applicate. La difficoltà è a 3 su 5. Tessuti alternativi sono gabarden, diagonale, rasatelo di cotone, velluto, shantuk e taffeta. Tutti elasticizzati. 30 canotta taglia 46-52 dalla linea sartoriale con pens cucite davanti e dietro e apertura lampo nel centro e dietro. Scollo arrotondato rifinito con bordo interno come per gli scalfi. La difficoltà è a 2 su 5. I tessuti alternativi piquet, ramier, popelin, rasatelo di cotone, gabarden, shantuk e taffeta. Numero 31 camice taglia 46-52 realizzate in shantuk di organza blucina con cannoncino centrale chiuso con asole e bottoni che termina sotto il seno. Ai lati del cannoncino vengono inserite i jabot mentre il fondo davanti termina arrotondato con sagomatura centrale da lasciare libera oppure da nodare a piacere. Manica corta con pieghe sciolte e polso abbottonato con fissino al centro. La difficoltà è a 2 su 5. Potete utilizzare anche il tullo e il pizzo, musola di misto cotone e garza oppure senza trasparenze come popelin, batista, ramier e piquet. Numero 32 giacca taglia 46-52 dalla linea vintage tagliata al punto vita con lacetti inseriti da nodare al centro davanti, ai fianchini davanti e dietro e le battellette delle finte tasche in forma. Si allaccia nella sola parte alta con asole e bottoni a forma di fiore. La manica è a giro, in due pezzi, con spacco sormontato e al fondo bloccato da un bottone. La giacca ha una difficoltà di 3 punti su 5. I tessuti alternativi sono il broccato, il damascato e fiandra, gabardenne cadì, doppio crepe, panama e velluto rasato, tweed, chanel, piede pulle, spigato e gessato. Numero 33 giacca taglia 48-54 con stampa con greca e marinare, senza collo, con allacciatura centrale davanti e a tre bottoni, pants in vita e fianchini davanti e dietro, manica in due pezzi, liscia al fondo, stile vintage, anni 80. La difficoltà è a 2 su 5. I tessuti alternativi che potete usare sono il panama, cadì, doppio crepe e velluto, principi di galles, tweed, chanel, piede pulle, spigato e gessato. Numero 34 abbiamo questa bellissima gonna taglia 48-54 in gabardenne misto seta, in vita una bassa cintura che si chiude nel centro dietro con gancio nascosto, cerniera lampo e spacco sormontato al fondo, linea dritta a tubo con pens cucite al punto vita davanti e dietro. La difficoltà è 2 su 5. I tessuti alternativi che potete utilizzare sono il panama, cadì, doppio crepe e velluto, principe di galles, tweed, chanel, piede pulle, spigato e gessato. Ed eccoci a parlare delle taglie più. Abbiamo questa bellissima giacca che è la numero 35 dalle taglie 46-52 corta sopra ai fianchi con allacciature a 3 bottoni nel davanti, colla a listino che appoggia i lati formando piccoli revers piatti, pens davanti e finte patellette sagomate al fondo, taglio centrale e fianchini nel dietro, manica in due pezzi con spacco sormontato al fondo. La difficoltà è a 3 stelline su 5, ma potete utilizzare anche diagonale, denim, canette, ottoman, pesante, gabarden e velluto. Numero 36, canotta taglia 46-52 in tulle elasticizzato a fantasia floreale con nervature verticali, tutta affoderata in maglina elasticizzata, con taglio a stile impero sottolineato dall'applicazione di un astrino di raso a contrasto, pence sotto il seno nel davanti e piccole nervature centrali allo scollo, lampo nel fianco sinistro, adattissimo a che è una fisicità a forma di pera, perché questo tipo di maglietta è leggermente sopra il sedere, per intenderci deve arrivare alla zona della cintura oppure leggermente sotto. Numero 37, questo bellissimo long dress taglia 46-52 in tulle elasticizzato a fantasia floreale, manica a kimono corta con bordi e inserti a contrasto in unito allo scollo, lo sfondo manica davanti e dietro e nella parte della vita, con motivo centrale sagomato nel davanti, pence nel corpino davanti e pieghe sciolte nella parte inferiore della gonna, mentre quella dietro è liscia, senza apertura, si infila dalla nuca e si indossa con la sottoveste numero 38, che abbiamo sotto, che va dalla 46 alle 52, e che è realizzato in maglina elasticizzata in tinta unita. È proprio l'abito ideale della donna Mela, è quello tagliato sotto il seno che cade morbido fino al ginocchio, questo un pochettino più lungo, ma va bene lo stesso, così da mascherare la pancia e mettere in evidenza il décolleté. Numero 39, abbiamo questa giacchetta numero 48-54 in jersey elasticizzato color sabbia, il bordo dello scollo dietro prosegue nel davanti formando l'apertura centrale, questo coprispalle è un modello versatile che risolve moltiplici look, assolutamente d'accordo. È molto facile da realizzare, infatti ha solo un punto, potete utilizzare come tessuti alternativi maglina, ciniglia, sempre elasticizzata. Ma adesso passiamo a questo bellissimo tubino, il numero 40, taglia 48-54 con scollo arrotondato ai lati, inserto a fascia nella parte alta della vita, davanti e dietro, gonna aderente, compensa e spacco centrale a baciare nel fondo del dietro. Apertura lampo nel centro dietro, veramente meraviglioso. Anche questo abito è adattissimo alla forma Mela, anzi anche meglio dell'altro, perché come vedete arriva al ginocchio. La difficoltà è a due, come tessuti alternativi potete usare la maglina, il jersey, l'icra e il vellutino di ciniglia, tutti elasticizzati. Oppure cadì, doppio crepe, crepella e gabarden, tutti sempre elasticizzati. Siamo arrivati alla fine anche di questo numero bellissimo di La Mia Boutique. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e condividete i miei video nei vostri social e con i vostri amici, in modo tale da permettere al mio canale di crescere sempre di più. Cliccate anche sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che verranno caricati nel mio canale. Io vi auguro una bellissima serata, spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacio grande grande, buon cucito e a Sibiri!